Grazie, avete visto che bella giornata che c'era? Ma comunque potete uscire benissimamente anche adesso Uscite, divertitevi, spaccatevi una gamba, date fuoco a una scuola, rapinate una banca, fatevi un anno di carcere Fate tutto quello che volete Questi sono gli anni preziosi in cui potete fare cazzate Perché poi quando avrete 18 anni avrete responsabilità su tutto quanto E quando sarete maggiorenni ripenserete a quella ragazza nei podcast che diceva Eh ma dovevi fare così, mannaggia, perché non l'ha ascoltata? Ciderbolina, non dovevo fare così Capite? Quindi sfruttate questi anni per fare cazzate Perché sono queste le cose che vogliono sentire i vostri futuri figli Non altro